Indiscrezione importante dal gruppo Telegram Database Italia, di cui ho già avuto modo di parlare. Bomba sulla pandemia, CDC USA, ritira tamponi PCR. Non distinguono SARS-CoV-2 da influenza. Contagi Covid-19 falsati. Di Fabio Giuseppe Carlo Carisio, fonte originale articolo di Gospa News, lo scorso 21 giugno. Sono state pubblicate le 18 righe che riscrivono la storia della pandemia da Covid-19. Quando parlo di CDC vedete l'acronimo cosa significa. Vi invito ad approfondire la cosa, ma il senso mi pare abbastanza chiaro. Ripeto, fate ricerca anche voi, vediamo se possiamo capirne qualcosa in più, appurare tutti insieme qualcosa in più. Quello che succede negli Stati Uniti naturalmente è molto importante anche per noi e non può che avere ripercussioni anche sulla nostra realtà. Per il momento vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere like se vi piacciono i contenuti che propongo. Grazie alla prossima videopillolina.